Tutto corto, il corner, c'è Lavezzi ancora contro Balzaretti, il cross arriva sul secondo palo, mischia la conclusione, prima palla che finisce fuori, altra deviazione, ci ha provato Maggio. Inserimento centrale di Amsic, arriva ancora Maggio, velocissimo in area, Maggio carica il destro, deviazione, Sirigu, poi Dossena rigioca dentro, si salva ancora il Palermo ma sta crescendo, un Napoli molto pericoloso. Torner battuto sul primo palo, pazienza, prolunga, Balzaretti salva quasi sulla linea. Migliaccio, prolunga per Pastore, Pastore in profondità, Miccoli la posizione regolare, Miccoli contro Grava, Miccoli va con il destro a cercare la porta di De Santis, il panone fuori, non di molto. Lavezzi, mette giù. In due ad aspettarlo, c'è spazio per Dossena, Lavezzi cerca il tiro, Sirigu ci mette la mano, calcio d'angolo, grande invenzione del Poccio. Amsic riallarga tutto, ora Dossena di prima in area, il panone arriva, Cavani con il destro, Sirigu si salva in calcio d'angolo. Pazienza, in area, Munoz di testa, mette giù Cavani. Cavani si libera di Migliaccio, prova a piazzare Sirigu. Sirigu, e poi Bobo in anticipo su Amsic, altra palla a gol per il Napoli. Amsic. Maggio. Il cross di Maggio, pallone sul primo palo, prolungato, arriva Lavezzi. Incredibile occasione, il Palermo si salva. Mazzarri non ci crede, che occasione per il Poccio. Cavani, di prima sulla corsa di Maggio, un ottimo pallone. C'è Dumitro al centro, Balzaretti contro Maggio. Maggio, gioca dentro. Il Palermo riesce a salvarsi. Ilicic, dentro per Cassani, gran pallone. Cassani in area, c'è Maccarone. Maccarone anticipato da Grava. Un intervento determinante, che palla di Ilicic, che rischio per il Napoli. Gargano. Partito Cavani in profondità. Gargano lo serve adesso. Yebda. Vuole il tiro. Yebda. Ancora Sirigu. Dumitro, Yebda, Cavani e Maggio a saltare. Pallone sul primo palo. Gargano prova a girare sulla linea. Salvataggio di Nocerino. Ancora una palla-gol per il Napoli. Amsic. Amsic con il sinistro. Cavani si porta avanti il pallone. Maggio. Non arriva la deviazione. Che occasione per il Napoli. Gargano. C'è Amsic. Amsic al limite. Vuole il movimento di Cavani. Lo serve Cavani. Posizione regolare. Maggio. Maggio. Il Napoli trova il gol. All'ultimo respiro. Con Cristian Maggio. Visto e rivisto eh. Visto e rivisto eh. Quanta cosa?